Stiamo raccontando come questa impronta sul mondo passa attraverso le leve delle infrastrutture digitali che sono quelle autostrade che ci consentono per esempio di ascoltare la grande sound designer Chiara Luzzani. Allora cerchiamo di parlare anche di chi durante l'anno della pandemia con noi tutti connessi ha di fatto presidiato su quelle infrastrutture, su quelle autostrade digitali. Vorrei chiamare qui sul palco a Sios 21 il prossimo ospite Chico Porcu, consigliere di amministrazione Infratel. Benvenuto. La faccio accomodare e grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora noi parliamo di Infratel e lo dico per chi ci segue di fatto in streaming è una società pubblica italiana che si occupa di sviluppo delle infrastrutture di connessione digitale, insomma quelle autostrade che ci consentono di restare di fatto collegati. Che cosa ha rappresentato l'anno della pandemia per il vostro lavoro? Beh l'anno, io direi l'anno della consapevolezza. Infratel è nata qualche anno fa, circa dieci anni fa, per promuovere la banda larga, cioè consentire a più persone anche dove il privato non arriva, il mercato non arriva, di collegarsi alla rete, che è un grande diritto della cui importanza l'abbiamo capita benissimo. E se qualcuno poteva avere dei dubbi, con la pandemia i dubbi sono passati, l'infrastruttura digitale, l'accesso a un internet veloce non è più, come dire, un servizio aggiuntivo, ma è un servizio essenziale a cui tutti hanno diritto e purtroppo il pubblico o purtroppo o per fortuna il pubblico, nel caso Infratel, che è una società in house del Mise, arriva dove il privato non arriva. E pensate che il 25% della popolazione italiana non aveva accesso a internet e in qualche modo lo ha ancora. Sto parlando di quei piccoli borghi, delle zone montane, delle isole, di quelle zone diradate, di un paese bellissimo come il nostro, che è fatto anche di piccole comunità di mille abitanti. E quindi la nostra missione è riconnettere anche quelle zone d'Italia cosiddette che noi chiamiamo bianche, cioè dimenticate dal mercato, ma che hanno gli stessi diritti delle zone urbane. Immagino soprattutto in questa fase storica dove ci stiamo delocalizzando per lavorare, noi stiamo oggi raccontando di fatto questo. Quali sono i progetti più innovativi che state portando avanti? Su quali cantieri state lavorando? Il progetto di base è riconnettere 20 milioni di persone e quindi stiamo parlando di 8 mila comuni circa che in qualche modo non sono collegati a internet e questa è l'attività di base. Però sempre di più abbiamo capito che oltre a connettere larghe fasce della popolazione bisogna connettere i servizi. E qual è il servizio che più di ogni altro abbiamo capito essere fondamentale in questa fase? E sono le scuole. Un grande progetto che stiamo portando avanti è il progetto scuole, stiamo collegando con una connessione non veloce ma velocissima, siamo parlando di un gigabit, 34 mila pressi scolastici italiani. Sappiamo dai giornali purtroppo che questa pandemia ci ha portato un triste primato di 200 mila ragazzi che in qualche modo non sono riusciti a seguire le lezioni a distanza e quindi vanno ad allargare quell'ampia fascia della dispersione scolastica che è anche lì un diritto che viene meno che quello all'istruzione. Quindi la precondizione in un caso come quello pandemico per un diritto fondamentale come l'istruzione è una connessione veloce. Quindi una connessione veloce dalle scuole è una connessione veloce nelle case perché dobbiamo pensare anche a quelle persone per il quale un computer costa o un abbonamento a internet costa e quindi abbiamo anche un grande piano voucher. Quindi oltre a portare la rete aiutiamo 120, 130, 150 mila famiglie per le quali pesa anche 20, 30 euro al mese di una connessione internet a farlo ricreando speranza, riportando il mondo a casa anche se la casa o gli abitanti della casa non possono andare verso il mondo. E credo che se abbiamo capito qualcosa dalla pandemia, diceva benissimo la creativa sound designer prima, se c'è qualcosa che possiamo imparare, se possiamo trasformare in una cosa brutta, non dico in una cosa bella perché non è bella ma utile, è la grande lezione che l'infrastruttura digitale deve avanzare e deve avanzare dappertutto ed essere sempre più al servizio delle persone e della loro parità di dignità e di diritti. Senta, le chiedo un'ultima cosa perché insomma voi avete anche modificato il vostro modo di lavorare, lo avete di fatto accelerato per offrire nuove opportunità ai cittadini che erano di fatto connessi o volevano essere connessi. In che modo avete agito su questo e come anche il piano di cui stiamo parlando tanto legato al recovery plan sta cambiando e ha cambiato il vostro modo di lavorare? Beh, questa è una bellissima domanda perché è un tema d'attualità. Noi ci siamo permessi di suggerire che anche il recovery plan, che ha una parte fondamentale, sappiamo almeno il 30% dei fondi che devono andare sulla transizione digitale, nasce con un presupposto che secondo noi è pre-pandemia. Noi abbiamo proposto di portare gli investimenti del recovery plan da 3,5 miliardi a 8 miliardi sul digitale, vogliamo arrivare dappertutto, vogliamo arrivare nella piccola isola di Lampedusa, vogliamo arrivare a Carloforte visto che siamo in Sardegna, vogliamo arrivare nell'ultimo comune montano, vogliamo arrivare lungo le strade perché oggi si può lavorare anche da un autogrill, vogliamo arrivare anche in quelle zone dove c'è una connessione internet ma non è abbastanza veloce perché oggi i 30 megabit che bastavano prima non bastano per lavorare in teleconferenze. Quindi quello che chiediamo è che ci permettiamo di popolare al paese e per una volta non recuperare il tempo perduto ma guardare al futuro e portarci avanti, dando non solo una connessione veloce ma velocissima a ogni cittadino italiano indipendentemente dal comune dove abita e credo che questo sarebbe una bellissima lezione che darebbe in un momento molto difficile per il nostro paese almeno il senso di uno scopo, di un futuro che magari potrà essere più aperto e più facile da affrontare. Bocca al lupo per la vostra missione che insomma è impegnativa ma ce la farete, complimenti davvero. Grazie anche a voi per questa bellissima occasione che ci avete offerto e questo programma che credo che scaldi i cuori e restituisca speranza al paese. Grazie, grazie Chico Porcu. Infratel